E oggi nel nostro panel c'è anche Emilia Romagna Cento, che proprio oggi al Quirinale è stata insegnita del titolo di alfiere da Super Sergio Nostro. Ciao Samantha! Ciao! Ciao Samantha, dove sei? Sono in treno. Sei in treno. Allora, Samantha, tu sei un alfiere della Repubblica. Per chi non lo sapesse, ce lo dici tu, cosa è? Sì, l'alfiere del lavoro è in sostanza un premio organizzato dai Cavalieri del Lavoro e in sostanza viene dato ai studenti che hanno una certa media e il Presidente della Repubblica dà anche una medaglia. Dov'è la medaglia? Faccelo subito vedere, Samantha. È in valigia. È in valigia. È molto grande? Sì, la valigia è sopra. Ah, la valigia è certo. Esattamente tu, Samantha, per cosa sei stata premiata? Per la media scolastica durante i miei anni scolastici alle superiori. Che media avevi a scuola, Samantha? 9,86. Mamma mia! Con fatica o senza fatica? Avere una media così è frutto di fatica o frutto di talento e fatica insieme? È frutto di talento e passione anche. E di fatica, ovviamente. Ascoltami, adesso sei all'università. Che cosa vuoi fare da grande? Mi piacerebbe insegnare a livello universitario. Che cosa? Materie di economia e contabilità. È bello perché purtroppo le donne che scelgono questa carriera sono numericamente inferiori rispetto agli uomini, vero? Sì, però all'università trovo molte donne comunque. Sei una ragazza a casa, scuola e biblioteca o c'è anche altro nella tua vita? C'è anche altro, però una bella descrizione di me, diciamo. Cosa ti diverte fare quando non studi? Andare a passeggiare, comunque divertirmi. Sì, sì, c'è anche quella parte. Beh, Samantha, l'hai vinto il premio, eh? Perché sembra che non l'hai... L'hai vinto, te lo giuro. Non te lo laverà nessuno, è solo in quella valigia. Ti basterebbe aprirla per riscoprirlo. Ecco, sembra il cangurotto quando gli frugavano nella tasca davanti. Apri la scatoletta, Samantha. Complimenti, Samantha, un applauso da parte mia e di tutto il panel. Speriamo che ti possa formare tanti ragazzi e ragazze talentuosi come te. Un abbraccio, buona vita, Samantha, grazie. Grazie. Ciao, ciao.